Stiamo un po' riflettendo all'inizio di questo nuovo anno come collegare il tempo nel misterio dell'incarnazione e ieri abbiamo visto grazie alle parole del futuro Paolo VI perché la lettera che abbiamo commentata risale al 1929 quando Paolo VI appunto non era ancora Papa e lui ci ha detto che dobbiamo riempire il tempo di valori eterni. C'è un nemico del tempo vissuto come occasione di eternità, c'è un ostacolo al tempo da vivere come occasione di riscoperta dell'incontro di un Dio che viene e che è sempre presente nel tempo della nostra esistenza. Questo nemico è l'ozio che non è solo un vizio antico o degli antichi, è un vizio molto, molto, molto diffuso. Il futuro Paolo VI riprende riprende una predica di San Carlo e in questa predica che è appunto sull'ozio Paolo VI. Paolo VI sa cogliere aspetti veramente belli e aspetti veramente originali. Dice si vede che al tempo di San Carlo l'ozio era molto diffuso, specialmente nelle classi ricche. Il lavoro era considerato una cosa ignobile. Quando più si va indietro e tanto più questo nella storia è identificabile e perciò l'ozio sembrava essere la condizione migliore. È verissimo che nell'antichità l'ozio era dei ricchi e che essere ricco ed essere persone oziose era considerato un privilegio. Oggi c'è un ozio certamente diverso. C'è un ozio per esempio dallo stare ora intere dinanzi al computer piuttosto che dinanzi alla televisione, piuttosto che dinanzi al cellulare. No, chiaramente mi riferisco quando questi strumenti diventano strumenti di lavoro. C'è un ozio poi nella capacità di amare. C'è un ozio nella capacità di comprendere che l'amore è sacrificio, di comprendere che le cose che valgono nella vita sono sacrificio che costano. C'è un ozio nel rapporto con Dio. Cioè mettere Dio e marginarlo e mettere il resto prima di Lui. Questo è ozio spirituale. C'è un ozio nel fare bene. Cioè pur di togliermi, lasciatemi passare questa provocazione. Lo scrupolo invece di alzarmi e andare per esempio a servire alla mensa dei poveri, mi accontento e mi quieto l'anima facendo un numero sul mio cellulare e dando l'euro. Questo è ozio spirituale perché la carità per esempio presuppone l'incontro con l'altro. L'ozio è il nemico di un tempo da vivere come incontro opportunità con la grazia, di un tempo da vivere come pienezza della propria umanità, di un tempo da vivere come riscoperta dei valori eterni come l'amore, la gratuità, la pace e il perdono. Ci vediamo domani. Parli più a TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.